Musica Ciao ragazzi Allora questa è la seconda volta che faccio questo video Anzi terza Perché la più prima avevo già praticamente finito Tag testa Croce Con una poesia Adesso vi faccio vedere cosa è uscito fuori Perché la poesia l'ho già scritta Dannazione Allora All'inizio era testa, amicizia Croce, amore Ed è uscito amicizia Io sono proprio scarsa Nell'amore No amore Questa mattina sembra che era in su Ed è venuta amicizia Testa Rime Croce No rime È venuto croce No rime Grandioso Non sono affatto brava con le rime Oh cavolo quanto tempo ho Tantissimo Magari vi racconta anche un po' Dico lui sta aumentando a scuola Ma si dai Poi Poi Testa Lunga Più di sei righe E croce corta Meno di cinque righe Cinque righe E dopo l'ultima era Testa foto e social Anche youtube Croce Butta Distruggi Edimbrica E quello ci devo farlo Ho perso la moneta Scherzavo Scherzavo Era qua Era Dannatissimamente là Io vorrò fare un timelapse Un timelapse Per mettere a posto quello Dannazione Sì Vabbè Ve lo leggo E poi Adesso mi devo sdraigliare Così mi vedete Devo sistemare Dannazione Adesso vi sistemo ragazzi Arrivo Perché è la terza volta che lo faccio Perché la prima non mi era venuto La seconda Mi era venuto Stavo per girare Anzi Avevo girato Mi era venuto testa Però lo rifaccio Resta era tenerlo E pubblicarlo sui social Anche alla fine del video E Sì E Per sbaglio Ho toccato la cosa Per andare Come si dice Per andare Nelle schede Ah Vi devo far vedere una cosa Con i miei occhi Guardate Non è la priorità Apri degli occhi Non è vero E sta bello farlo Vabbè Ma sta Allora La poesia si intitola Amicizia Perché Feticisti Ciao Ciao feticisti Guardate che bel piede Che ho Punta Martello Martello Punta 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 Allora E' giunto Il momento Croce O testa Ma 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 Si vede la moneta Se io mi metto Non lo profongo Così sarebbe O forse Se io mi metto Qua 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 Bea Mi dai un libro Un libro Devo tenere la fotocamera così Fotocamera Grazie 20 centesimi 20 centesimi Niente Cavolo Io quaderno Allora Dammi Ah Mi si è fatta Io mi metto Qua Così Fino Fino Questo Grazie Allora Così Devo riuscirci Si vede la moneta Scusate ragazzi Si vede la moneta A me lo tieni così un po' Anzi no scusa Forse ho trovato il modo scusate ragazzi per questi problemi tecnici no non mi importa non ve lo vedrete non mi importa scusate per questi problemi tecnici è il bello della dieta vabbè comunque provo dai testa foto social e anche alla fine del video croce distruggi butta e dimentica testa 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 comunque lo farò dopo perchè adesso parliamo un po' dell'inizio della scuola allora ma ok scusate se avete visto fare tipo forse allora ragazzi mi dovete dire come fare a registrare dal tablet lo schermo del tablet ah e se volete stasera il blog della pizzeria che andiamo perchè abbiamo degli ospiti della Polonia e praticamente stasera si va a mangiare la pizza perchè è il compleanno di uno di loro e allora ci offrono loro perciò ci portano loro e ci offrono loro e sono pure gli ospiti e questo fa strano facciamo un trucco di magia che dopo vi spiego anche il trucchetto allora allora questa mano ho una moneta chiudo la mano vediamo se riesco perchè magari a volte non mi riesce allora adesso devo fare un po' così così proprio guardate qua infilare muovere ok vai faccio vai quasi 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 ok perfetto e ora non c'è più e ora la faremo riapparire pronti i ragazzi non so fare i tagli perciò non ci possono ascoltare il video e rimuovere ah aspetta neanche l'altra proprio vuote pronti cosa il mio zaino non l'avevo lasciato qua un secondo ok perfetto l'abbiamo spostato oh cavolo allora pronti tutti e due vuoti belli e bellini aspetta bello allora pronti vai tada allora come ho fatto molti l'hanno capito perchè l'ho fatto un po' male allora chiudo e quando sono e quando chiudo trasc e faccio così porto di qua e rimuovo in realtà trascino fuori passo sul pollice intanto continuo e lo lascio e lo lascio qua in modo che quello di fronte non riesca a vederlo la moneta e poi fai vedere le mani e poi riporti dentro col polli ovviamente con la mano chiusa adesso si mi stava cadendo ed apparirà molti di sicuro lo conoscono già questo trucco aia aia che male mi sono fatta malissimo ragazzi potete anche immaginare e no e comunque si allora dopo andremo a postare se questo video vi è piaciuto piaciuto prosciutto 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 se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace un bel commentino e iscrivetevi che ho bisogno anche al mio canale vabbè non pubblichi video da un secolo devo pubblicare uno va bene ciao hola ciao